La Fortezza 59, il locale situato all'interno del giardino di Piazza della Resistenza, più comunemente conosciuto come Piazza d'Armi, rilancia. Per dare sempre più forza al progetto di riqualificazione dei giardini, il locale cerca di attrarre sempre più cittadini, con eventi dedicate a grandi e piccoli, e da tutte le ore del giorno e della sera. Con uno staff in gran parte rinnovato, si parte a novembre, con tre eventi legati al mondo del basket, in particolare Pistoiese. Tre eventi dedicati alla pallacanestro a novembre, uno dedicato a giocatori che hanno fatto la storia di Pistoia, uno dedicato ai dirigenti che hanno fatto la storia, quindi che hanno reso possibile tutto quello che riguarda il passato e anche il presente, e uno dedicato alla medaglia olimpica, perché quest'anno è il ventennale della medaglia olimpica, quindi avremo due grandi ospiti, non lo svelo, perché così almeno avrete la curiosità di venirci a trovare, vi aspettiamo con grande piacere. L'obiettivo da sempre è quello di riuscire a riqualificare questo parco, l'unico modo è quello di riuscire a riaprire ovviamente dalla mattina alla sera, con diversi filoni, si va dal laboratorio, da piccoli bambini, sul teatro, sulla poesia, a proposte legate al mondo del disabile, c'è una proposta che porteremo al comune riguardante proprio una ristrutturazione all'interno del parco, legato al mondo dello sport per disabili, che ci piacerebbe portare proprio alla luce, disabili e anche animali, perché comunque è un parco molto vissuto dal punto di vista del cane, in questo caso comunque gli animali, quindi dare un senso di centralità maggiore a quella che può una proposta più allargata fino al confinamento del parco. Noi abbiamo creato una struttura che deve necessariamente essere a disposizione della città, alle mie spalle abbiamo fatto un disegno che un po' vuole scivettare a Razzo Millefiori, con un artista pistoiese, quindi l'idea è proprio di dire voglio fare un collegamento a quella che è la città, la parola salotto, qualcosa che piace al mondo pistoiese perché non è la grossa piazza, è una sala comunque più intima, cerchiamo di rivitalizzare questo parco.